Ottima domanda, e in realtà le ragioni dietro questa sua incredibile ricezione sono tutto forche meravolose. Anzitutto il fatto che superando persino la RAI, Radio Maria è ad oggi l'emittente che possiede il maggior numero di ripetitori dell'intera nazione, ben 850, i quali furono posizionati ai tempi in zone geografiche che possiamo definire strategiche. Secondariamente poi bisogna dire che Radio Maria essendo stata concepita come radioparlata è una delle pochissime emittenti italiane a trasmettere in monofonia, la qualcosa le garantisce un segnale molto più pulito e con meno interferenze rispetto ad un classico segnale stereofonico, di per sé nettamente più complesso. Grazie. Grazie. Grazie.